Siu Talks Scienza, un'occasione per vivere la scienza in modo accattivante e con la voce di grandi esperti del settore. Con il primo appuntamento nel ciclo intitolato del BCG, il dottor Francesco Soria riassumerà i concetti fondamentali relativi ai fattori di rischio per lo sviluppo del tumore della vescica, gli aspetti clinici con i segni e i sintomi con cui la malattia si manifesta e infine proporrà alcuni elementi di prevenzione. Se vi chiedessi chi è l'uomo più ricco del mondo? Domanda facile vero? Forse vi potrebbe solo venire il dubbio se in questo momento al primo posto vi sia Jeff Bezos o Elon Musk, ma di certo la vostra risposta non si allontanerebbe più di tanto ed avreste ragione. Ma non è sorprendente pensare come una notizia che non ci riguarda personalmente, come la classifica degli uomini più ricchi del mondo sia di dominio pubblico e nessuno abbia parlato e nessuno parli del fatto che storicamente il tumore della vescica è per la prima volta passato dall'essere il decimo tumore più frequente al nono posto fra i tumori più diagnosticati al mondo. Secondo infatti gli ultimi dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, incidenza e mortalità cancro specifica del tumore vescicale sono preoccupantemente in aumento. E questo incremento è consistente se pensiamo che l'incidenza è aumentata del 7% nel bienio 2020-2022 e ancora più preoccupanti sono le proiezioni riguardo al futuro se pensiamo che nel 2050 è previsto un raddoppio del tasso di incidenza passando dagli attuali 600.000 casi diagnosticati al mondo agli 1,23 milioni previsti per il 2050 appunto. Ma quali sono le possibili spiegazioni a tutto ciò? Sicuramente nell'indagare un aumento di incidenza non si può prescindere da un'analisi su quelli che sono i fattori di rischio di questa patologia. E se storicamente l'esposizione occupazionale ad amine aromatiche, idrocarburi aromatici policiclici si ritiene sia stata responsabile di circa il 10% dei tumori urotegiali vescicali, è anche vero che oggi nei paesi soprattutto industrializzati, grazie all'introduzione delle politiche per la regolamentazione della sicurezza sul lavoro, il tumore occupazionale è quasi del tutto scomparso, tant'è che in tali contesti lavorativi i coloro che sono esposti ad agenti chimici hanno lo stesso rischio relativo di sviluppare la patologia rispetto alla popolazione non esposta. Ma ciò non è altrettanto vero ad esempio per i paesi in via di sviluppo, che peraltro e per inciso sono anche quelli più popolosi. Ma sicuramente come ben noto il principale fattore di rischio ritenuto responsabile di circa 50% dei casi di tumori vescicali e il fumo di sigaretta. Questo è dovuto al fatto che le cellule urotegiali rimangono esposte ad amine e idrocarburi aromatici policiclici che vengono escreti a livello renale come prodotti di degradazione del fumo. Pertanto la durata e l'intensità del fumo correlano con il rischio di sviluppare la malattia. Ad oggi non abbiamo abbastanza evidenzi invece sul ruolo di quelle che sono le sigarette elettroniche. Anche se ultimi studi ci dicono come sostanzialmente che le sostanze carcinogene siano state ritrovate nelle urine dei pazienti fumatori di sigaretta. Ma proprio a proposito del fumo di sigaretta vorrei aprire una parentesi che ritengo fondamentale. Se tutti infatti siamo a conoscenza del fatto che il fumo di sigaretta è responsabile dello sviluppo di tumore vescicale, forse non prestiamo abbastanza attenzione e non ci dedichiamo a sufficienza al ruolo che noi medici, noi urologi, abbiamo nel confronto dei nostri pazienti riguardo l'importanza dello smettere di fumare anche dopo una diagnosi di tumore vescicale e non solo a scopo preventivo. Nel tumore di vescicale non muscolo invasivo il continuare a fumare infatti correla con un aumentato rischio di recidiva e di progression to mass invasive disease. E inoltre vi sono dati che il fumo di sigaretta sembra impattare negativamente l'efficacia del BCG in quanto va a sopprimere l'immunità CD4 e CD8 mediata che ha la base stessa del meccanismo d'azione del BCG. Dati un pochino più contrastanti ci sono sul tumore muscolo invasivo ma anche in questo contesto da studi multicentrici retrospettivi sappiamo come lo stato di fumatore attivo al momento della cistectomia sia correlato con una recidiva, una mortalità cancro specifica maggiore rispetto allo stato di ex fumatore o di non fumatore. Questa associazione non veniva negli studi retrospettivi confermate le analisi multivariate ma verosimilmente in quanto altri prognosticators come ad esempio lo stadio tumorale, l'invasione linfonodale, l'invasione linfo vascolare hanno un peso specifico molto alto limitando quindi la magnitudo dell'effetto del fumo. Ma ciò nonostante le evidenze riguardo l'importanza dello smettere di fumare anche dopo una diagnosi di tumore vescicale sono molteplici. Ed è proprio su questo che vorrei soffermarmi. Facciamo abbastanza per istruire i nostri pazienti allo smettere di fumare? La risposta è ahimmeno. Da una survey condotta nel 2010 su più di 600 urologi americani è emerso come la metà di essi ammise di non aver veramente mai discusso con i propri pazienti l'importanza dello smettere di fumare e un quarto di essi disse che secondo lui lo smettere di fumare dopo una diagnosi di tumore vescicale ormai non aveva più nessun impatto su quella che poteva essere la prognosi della malattia. Starete sicuramente pensando che non abbiamo il tempo di fare anche questo nella nostra pratica clinica ma invece basterebbe davvero poco. In un trial prospettico a due bracci condotto nel 2013 su 179 pazienti con nuova diagnosi di tumore vescicale 141 sono stati arruolati nel braccio sperimentale che consistiva in un counseling di meno di 5 minuti sull'importanza e i benefici dello smettere di fumare. I restanti 38 pazienti invece sono stati arruolati nel cosiddetto braccio di controllo ossia quello di usual care. Ebbene i dati a 12 mesi sono stati davvero sorprendenti se pensiamo che il 12% dei pazienti arruolati nel braccio sperimentale aveva smesso di fumare contro solo il 3% dei pazienti arruolati nel braccio di controllo. Questi risultati sottolineano l'importanza del nostro ruolo nel promuovere la cultura dello smoking cessation e come basterebbe davvero poco e paradossalmente anche meno di 5 minuti per paziente per impattare significativamente su questo importante fattore di rischio. Così come compito di noi urologi non far calare l'attenzione su quelli che sono i segni e i sintomi del tumore vescicale e sto pensando ad esempio ai LATS, i sintomi irritativi del basso apparato urinario, ma soprattutto all'ematuria e alla macroematuria. I risultati dello studio IDENTIFI, uno studio prospettico osservazionale condotto fra il dicembre 17 e il dicembre 2018, ci danno dei dati aggiornati su quelli che sono i segni e sintomi del tumore vescicale. Lo studio IDENTIFI, che ha coinvolto 10.000 pazienti da 110 centri e 26 paesi, ha arruolato consecutivamente tutti coloro che accedevano ad una cistoscopia flessibile ambulatoriale nel sospetto di un tumore genito-urinario. Ebbene, i risultati sono stati significativi. Se pensiamo che la quasi totalità dei pazienti accedeva all'acistoscopia per causa di ematuria. 65% macroematuria, 29% microematuria e se vogliamo leggere i dati al contrario possiamo dire quindi che solo il 5% dei pazienti arrivava all'acistoscopia non per un problema di ematuria. La prevalenza del tumore genito-urinario è stata del 21%, ma fare la parte del leone è stato il tumore vescicale, che ha costituito il 18% dei casi di tumore diagnosticati. Inoltre, se andiamo a valutare i sintomi che hanno condotto i pazienti alla cistoscopia, vediamo come fra i pazienti che sono arrivati per macroematuria, un quarto ha finito poi il work-up diagnostico con una diagnosi di tumore vescicale. Questo sottolinea come l'ematuria, in particolare la macroematuria, sia davvero un sintomo cardine di questa patologia, che dovrebbe allarmare il paziente in primis, ma poi soprattutto il medico e l'urologo. Un sintomo però che ancora oggi troppo spesso viene preoccupantemente trascurato, soprattutto in alcune categorie di popolazione. Sto pensando ad esempio al sesso femminile, in cui il tempo medio che intercorre fra un episodio di macroematuria e la diagnosi del tumore vescicale è significativamente più lungo rispetto al sesso maschile. Le donne hanno una probabilità doppia rispetto agli uomini di terminare una visita medica di medicina generale eseguita per un problema di macroematuria con una diagnosi presunta di infezioni delle vie urinarie e una minore probabilità di un referral a un urologo. Da uno studio retrospettivo statunitense del 2014 condotto all'Università del Texas che è andato a valutare retrospettivamente un campione di donne che afferiva a una visita medica di medicina generale per macroematuria ebbene solo l'8% veniva inviata a visita urologica. Questo ritardo conduce a un'importante e preoccupante gender disparity che si traduce in una patologia che è più avanzata alla diagnosi nel sesso femminile rispetto al sesso maschile e a una minor sopravvivenza cancro specifica nelle donne. Per questo è quanto mai necessario investire sull'educazione della comunità medica, sottolineando l'importanza di seguire un approccio standardizzato basato sulle evidenze e sulle raccomandazioni delle linee guida nei pazienti con ematuria e quindi di arrivare alla classica triadrediagnostica, cistoscopia, citologia e imaging. Ad oggi infatti la diagnosi del tumore vescicale vede ancora come gold standard la cistoscopia accompagnato dalla citologia per la diagnosi di malattia di alto grado. La citologia urinaria infatti ha una buona sensibilità per la malattia high grade, più dell'80%, ma una scarsa sensibilità per quella che è la malattia di basso grado, inferiore al 20%. E proprio in ragione di questa scarsa accuracy della citologia urinaria sono stati sviluppati negli ultimi decenni e soprattutto negli ultimi anni molteplici biomarcatori urinari al fine di poter essere utilizzati in diversi momenti della patologia, da quello che è un setting diagnostico, addirittura di screening, a quello che è invece il follow up della malattia vescicale, soprattutto quella non muscono invasiva. Ma ad oggi nessuno di questi biomarcatori è stato introdotto davvero in pratica clinica, né raccomandato dalle linee guida, soprattutto per quanto riguarda il setting diagnostico e di screening. Questo perché le performance di questi biomarcatori in questo contesto non sono ancora ottimali. Ma qual è il marcatore ideale? Un marcatore ideale dovrebbe essere cosiddetto better, easier, faster and cheaper, dovrebbe ossia essere migliore di ciò che abbiamo oggi, dovrebbe essere riproducibile, fornire dei risultati in tempo reale, essere ad esempio un point of care test e soprattutto essere sostenibile da un punto di vista economico. In un setting di screening un biomarcatore ideale dovrebbe avere un elevato valore predittivo positivo e un'elevata specificità, perché ciò che noi vogliamo è identificare soltanto i soggetti malati all'interno di una popolazione asintomatica, evitando però dei workup invasivi non necessari alla popolazione sana. Ma purtroppo il valore predittivo positivo di un test è influenzato fortemente dalla prevalenza della patologia nella popolazione e anche in alcuni contesti, sto pensando ad esempio ai forti fumatori asintomatici, la prevalenza del tumore vescicale è comunque bassa, a seconda delle casistiche si aggira fra lo 0,1 e il 3,3%. Pertanto ad oggi nessun biomarcatore raccomandato né è stato implementato in pratica clinica nel contesto di screening. Non ci siamo ancora, forse ci arriveremo. La domanda allora è cosa possiamo fare quindi oggi? Possiamo fare alcune cose molto molto semplici. Non dimenticarci ad esempio di alcuni elementi fondamentali che studiamo agli inizio della nostra carriera e che tendiamo a dare per scontati. Sto pensando all'epidemiologia, ai fattori di rischio, ai segni e ai sintomi. Elementi che se affrontati con sguardo critico e con attenzione possono davvero fare la differenza e impattare positivamente sul presente del tumore vescicale. Grazie.